Io ho sentito bene, un po' di pressione, perché non gioca sempre con la squadra, ma sei bene per questa stagione. In fase offensiva dobbiamo fare di più, perché in questo momento non marca gol, ma quando non è possibile non dobbiamo perdere la partita. Oggi ha fatto bene la squadra, non ha perduto questa partita, vedo la prossima partita, si può fare molto meglio in fase offensiva, ma sei contento della squadra.